L'assessore Cristina Clerico ha la presentazione di queste 17 manifestazioni sportive importantissime per la provincia di Cuneo, ospite anche qui all'ATL che sostiene questi eventi. Sì, è un bel momento in cui rappresentiamo all'esterno tutto il lavoro che si sta facendo per essere sempre di più il fulcro di un lavoro importante che attraverso lo sport vuole portare turismo in città e vuole far vedere all'esterno le nostre bellezze. Tu sei una sportiva, il Comune di Cuneo crede molto allo sport in generale e quest'anno di soddisfazione ne stanno arrivando tante in vari settori. Sì, stiamo raccogliendo finalmente anni di lavoro, questo è un anno in cui lavoreremo molto, moltissimo sul ciclismo, approfittando del ritorno della Cuneo Pinerolo e del centenario di Fausto Coppi, il ciclismo sarà il centro della nostra attenzione sia sul settore sport che nell'ambito culturale. Questa è un po' la proposta nuova dell'anno. Lavoreremo molto sullo sport accessibile, avremo appuntamenti importantissimi col torneo internazionale di tennis in carrozzina, con una novità che è un torneo di pallanuoto per disabili e con un appuntamento molto importante con Special Olympics che vedrà Cuneo interessata dalle discipline natatorie a giugno, quindi con Amico Sport.